10 dicembre de Il giornalino di Giamburrasca Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Giamburrasca, di Vamba 10 dicembre! Evviva gli sposi! Evviva Giannino! E abbasso le minestre di capellini! Finalmente la pace è tornata in famiglia e tutto per merito mio! Stamattina dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta e quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto zitto mi sono alzato, mi son vestito e sono andato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia, che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ha suonato il campanello il vetturino, e tutti sono usciti. Allora io, che stavo pronto, lesto come una setta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa, ho agguantato la traversa di legno che è in fondo, dietro il mantice, e mi son ficcato lì a sedere come fanno i ragazzi di strada pensando fra me. Ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. Il più bello poi è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza, e tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva, per carità, badate che quel terremoto di Giamburrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo. Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono sceso anch'io. Oh maraviglia, si era davanti a una chiesetta di campagna, nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. Che chiesa è questa? Ho domandato a un contadino che era lì fuori. È la chiesa di San Francesco al monte. Sono entrato anch'io, e ho visto dinanzi all'altar maggiore inginocchiati davanti al prete l'avvocato Maralli e Virginia, e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare senza che nessuno si accorgesse di me, e così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio, e quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi, e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscito a un tratto fuori dell'ombra e ho detto sono contento anch'io, e allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi? Non so perché, ma in quel momento mi è venuto da piangere, perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero, e tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia, e mi ha baciato domandandomi con voce tremante, Giannino mio, Giannino mio, ma come hai fatto a venire fin qui? Il babbo ha borbottato, una delle solite. Anche Virginia dopo lo sposalizio piangeva e mi ha abbracciato e baciato, ma il Maralli mi è parso molto malcontento, e presomi per un braccio mi ha detto, bada bene Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto, hai inteso? E perché? Non ti impicciare del perché, non son cose che possono capire i ragazzi queste, sta zitto e basta. Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire, ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo? Basta, l'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene. Siamo tornati a casa, e nel ritorno sono stato a cassetta col vettorino, e ho guidato quasi sempre io, e quel che più conta, ora non mangerò più minestre di capellini per un pezzo. Fine del 10 dicembre